Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games, io sono Valfair il signore dei giochi e bentornati, bentornati ancora una volta su Escape from Tarkov. Se state vedendo questo video ragazzi, oggi è il giorno 24 dicembre, vi auguro una felice serata di Natale a voi e famiglia, anche se con questa situazione del virus non ci possiamo muovere tanto per andare a trovare i nostri amati parenti o amici, però io vi auguro buon Natale e felice anno nuovo ovviamente. Però eccoci qui oggi ragazzi, a parte gli inconvenievoli per un altro tutorial, stavolta non sulle armi ragazzi, sulla difesa, come difendersi su Tarkov, le armature. Allora, partiamo dal presupposto che se avete avviato per la vostra prima volta Tarkov una delle prime armature che potrete prendere, la prendete da Ragman a livello 1, quindi è la prima che vi vende, ed è anche l'unica perché se no le dovreste scambiare per altri vari oggetti, è la paca. Armatura di livello 2 in materiale aramide. Quando controllate un'armatura ragazzi, per sapere se è buono o no, controllate sempre due fattori, anzi tre per essere precisi. I punti armatura, che sarebbe la, come dire, le condizioni massime dell'armatura, quindi diciamo i punti salute dell'armatura, la classe armatura, quindi il livello della vostra specifica corazza, e il materiale. Potete anche ignorare il resto, sono cose di poco conto, possiamo dire, a parte anche quali parti protegge l'armatura, in questo caso la paca, armatura base standard che già dai primi momenti di gioco possiamo acquistare da Ragman a livello 1, proteggerà il nostro torace e il nostro stomaco. Vi ricordo che se avete lo stomaco nero vi dovete sbrigare o a uscire dal raid o a usare un CMS per operarvi e curarvi lo stomaco, se no perderete energia e idratazione alla velocità della luce, arrivando alla morte poco prima di uscire. Io ci sono già capitato agli inizi. Allora, esaminando la paca, la prima armatura standard del gioco. Punti armatura 50, è diciamo una quantità più che accettabile, perché è un'armatura che si ripara abbastanza bene, non troppo però diciamo abbastanza. Class armatura 2, è un'armatura standard dell'inizio, quindi il primo proiettile perforante vi ucciderà con uno o due colpi al torace come nulla, quindi perforerà come se fosse fatta di carta pesta. Materiale aramide, l'aramide è un ottimo materiale, anche se il migliore in assoluto da tenere in considerazione è materiali combinati. Dopodiché, è un'armatura di livello 2, ma agli inizi noi ci troveremo ad utilizzare anche altri tipi di armature che potremo trovare anche in raid, sugli scav o giocando da scav, come la 3M, armatura che per via di una missione di skier ci sarà richiesta, condizioni massime come potete vedere qui da dove io muovo la freccetta, 19 su 40, io ne ho comprata una per mostrarvela, scusate il colpo di tosse, che però era danneggiata. 40, 10 punti in meno di integrità rispetto alla pacca. Con 40 diciamo che può essere buona, però non vi protegge praticamente da nulla, cioè l'unico livello di protezione che vi può dare malapena dagli scav che utilizzano munizioni da caccia, quindi munizioni non strutturate per penetrare. ovviamente se la potete evitare di usare evitate, tanto vale andare nudi perché è come se voi foste completamente nudi in raid senza un minimo di protezione. Classe armatura 2 come la pacca, quindi il primo proiettile perforanti che vi arriva siete morti. Materiale aramide, proprio come la pacca, un ottimo materiale, il peccato è che è un'armatura fatta di carta pesta. Un'altra armatura, sempre di livello 2, è la 6B2, armatura flora, che potete comprare sempre da Ragman una volta portato a livello 2. Punti armatura 80, si ripara benissimo, integrità eccellente, classe armatura 2, quindi non vi protegge comunque sia tanto. Materiale titanio, il titanio è un attimino meglio dell'aramide, ma di pochissimo, però ovviamente essendo classe armatura 2, il primo proiettile perforante che vi arriva siete morti. Quindi ovviamente occhio, occhio. Un altro tipo di armatura che sempre agli inizi è possibile ottenere con Ragman a livello 2, quindi scambiandola o trovandola in raid, giocando da scavo o da PMC su qualche scavo, perché di norma alcune armature più sugli scavo è possibile trovarle, è la Kirasa. Kirasa, punti armatura 70, quindi 70 ad integrità, veramente buona. Si ripara bene, protegge molto bene, infatti materiali combinati, però a livello 3. Diciamo che un proiettile perforante non vi uccide, però due proiettili perforanti o tre, se vi beccano buoni buoni al torace siete morti. Ovviamente protegge sia torace che stomaco come la Paka, come la 6B2 e la 3M, quindi tutte torace e stomaco. Un'altra armatura di livello 3, però per niente buona, è la MF Onu, ovvero l'armatura dell'Unter, l'armatura da puffo viene chiamata perché essendo di colore azzurro diciamo che vi rende facilmente visibili anche da lontano, però ovviamente dovete indossare voi il giusto gibernaggio sopra per coprirla. Classe armatura 3, classe armatura nulla da dire ragazzi, è una buona armatura da usare agli inizi. Integrità massima 50, come la Paka, quindi diciamo nella media. Materiale pessimo, alluminio. È un alluminio ragazzi che, per quanto sia di livello 3, un solo proiettile perforante come per la 6B2 o la Paka o la 3M, vi uccide all'istante. Anche questa protegge torace e stomaco. Poi passiamo a un'altra armatura che già voi potete prendere un po' più avanti nel gioco, sempre da Ragman, una volta portato a livello 2 o 3, che è l'armatura 6B23, modello boschivo digitale, che poi è il modello per i colori che ha. Un'armatura verde, in zone di boscaglia vi rende un po' meno visibili del normale. Punti integrità, quindi punti armatura 60. Siamo sempre nella media e poco più della Paka. Armatura in acciaio, protegge bene l'acciaio, però un determinato calibro, che sono i 7,62, quelli dell'SKS, che non ricordo bene il calibro preciso, ve lo dico subito. Eccoli qui, 7,62x39. Un solo colpo di BP, uno solo, vi ucciderà all'istante, perché la perfora come nulla per via del materiale, armatura in acciaio. Classia armatura 3. Una buona armatura economica da utilizzare sempre agli inizi, questa protegge anch'esso stomaco e torace. Poi, ovviamente, io ora queste le vendo perché le avevo prese solo per, diciamo, farvi una semplice dimostrazione, mostrarvi queste armature. Beh, non servono, quindi andiamo nella cassetta dei miliardi e mettiamole qui. Tornando da Ragman, e ricapitolando un attimo, a livello 1 vi venderà la Paka, ve la potrà scambiare per le maschere, che potete trovare tranquillamente addosso agli scav, e vi scambierà un'altra armatura, che è un'armatura con gibernaggio incluso, di livello 4, che però richiederà 4 di carta igienica e 3 di sapone da trovare in raid. Armatura giubbotto antiproiettile 6B5, 15ZH, 86 Ulei, viene chiamato così perché tutta questa serie di cose non me lo chiedete, non l'ho mai capito manco io. Armatura con gibernaggio incluso, quindi se indossate questa non potete avere un'armatura supplementare o un gibernaggio, perché è un 2 in 1 praticamente. Punti armatura 50, quindi integrità nella media, come la Paka. Dimensioni del container 10, quindi possiamo avere fino a... abbiamo un totale di 10 slot nell'armatura, quindi ci possiamo portare tranquillamente tipo 3 caricatori, uno vi ricordo di lasciarlo sempre vuoto, se no quando ricaricherete l'arma il caricatore ve lo butterà a terra, e un 2 granate o 2 oggetti di cura da mettere qui in base a quello che ci volete mettere nei 2 slot piccolini. Armatura classe 4, molto buona, il classe 4 è buono. Materiale ceramica, pessimo ai massimi livelli. La ceramica ragazzi vi può proteggere dai colpi sportivi come cartucce da caccia, ma i proiettili standard, quelli normali, diciamo che con 2-3 proiettili già abbiano disintegrato l'armatura, perché il materiale è pessimo come materiale la ceramica per usarla per un'armatura. Utilizzare questa è come andare con un giubbino imbottito di carta pesta a più strati, quindi facilissima da perforare. Se vi trovate a doverla utilizzare perché non potete avere di meglio, ovviamente usatela, se no vi ricordo che andare nudi, se ve la cavate nell'essere furtivi, può essere molto più conveniente. Questa armatura ovviamente protegge pure questa torace e stomaco. A livello 2, il nostro amato Rachman ci venderà anche dei caschi, che ora andremo ad analizzare. Oltre le varie armature già viste ci scambierà anche diverse armature. Ad esempio, per 5 nastro adesivo e un acali ci venderà il gilet tattico Ana Tactical Alpha. È un gilet tattico questo, quindi non è un'armatura. Perdonatemi, questa è un'armatura. Il Taktek, che io ho anche montato addosso al mio PMC, richiede 4 pistole di resciala TT, quindi la TT dorata, la trovate addosso a resciala il boss scav di custom, e 8 collanine. Armatura classe 5, ottima. Area armatura a torace, protegge solo il torace, non protegge stomaco, braccia, gambe o il resto. Dimensione del container, 18, perché è un'armatura con gibernaggio incluso. Punti armatura, quindi integrità 50, nella media. Materiale politilene ultrapesante, ottimo, veramente ottimo, anche se materiali combinati, vi ricordo, è l'eccellenza assoluta, ma questo è, diciamo, quello un po' prima dei materiali combinati. Il politilene ultrapesante, scusate non mi veniva facile dirlo. Armatura molto buona, protegge bene, si ripara altrettanto bene, però occhio sempre ai proiettili perforanti, più che altro a proiettili come gli M61, vi arano subito, quindi vi uccidono all'istante. Dopodiché, giubbotto antiproiettile 6B5, 16, ZH, vabbè, un po' come quella che avevamo visto un po' prima. Classa armatura a 3 stavolta, non livello 4, quindi nello standard. Punti armatura, quindi integrità 80, eccellente integrità, si ripara anche abbastanza bene. Materiale titanio, un po' meglio dell'acciaio, quindi vi protegge bene, ma non eccessivamente. Proiettili come i BP dell'SKS o i M61 ovviamente vi areranno all'istante. Protegge tranquillamente torace e stomaco. Altra armatura, giubbotto antiproiettile 0,1M. Punti armatura 40, si rompe facilmente, non si ripara per niente bene. Dimensioni del container, quindi, che possiamo ottenere perché è un'armatura con gibernaggio incluso, 12. Classa armatura 4, buono, titanio buono. Infatti protegge bene, ma si rompe subito. Area d'armatura che protegge torace e stomaco. Poi arrivate ovviamente ragman livello 3, io non ce l'ho al 4 purtroppo. Vi potrà scambiare per 2 collanine d'oro e 3 confezioni di caffè l'armatura, la Giselle K. Punti armatura 65, un po' oltre la media. Classa armatura 5, quindi un buon livello. Non protegge molto bene perché è in ceramica. Protegge torace e stomaco. È un'armatura che, se vi trovate a doverla usare, io ve la consiglio, però appena potete sostituirla con qualcosa di ovviamente meglio, fatelo. Più che altro perché la pecca peggiore di questa armatura è il materiale e l'integrità. Proiettili come i BP vi può permettere di sopravvivere tipo 2, 3, in alcuni rari casi hanno detto alcuni 4 proiettili BP, anche se ne dubito, però non si ripara proprio alla perfezione, non vi protegge proprio tanto, considerando che i BP tanto ve li spareranno sempre con arme automatiche, quindi 4 proiettili vi arrivano addosso come se fosse nulla. Dopodiché, armatura Gen 4, kit alta mobilità, protegge torace e stomaco. Punti armatura 65, si ripara anche molto bene ed è come integrità un po' oltre la media. Classa armatura 5, quindi molto buona, materiale titanio, nella media. Se la volete usare, ragazzi, io ve la consiglio agli inizi, è una buona armatura, però ovviamente c'è sempre comunque di meglio. Però diciamo che in molti buoni casi si rivelerà veramente una scelta molto efficace. Ovviamente poi, immancabile, armatura d'assalto 6B13, motivo forestale, ceramica, livello 4, 47 di integrità, stomaco e torace. Diciamo che la potete trovare anche sugli scav. Protegge bene, perché la ceramica alla fine protegge bene, però deve avere anche tanti punti armatura. Con 47 punti armatura in ceramica, se potete evitarla, evitate. Poi c'è la gemella, però, con un colore diverso e un'altra gemella ancora con un colore diverso e ancora meno integrità, che è la versione modello flora di montagna, che è marroncina. Se potete evitarle, evitatele, ragazzi, se ci tenete a uscire vivi dal raid. Redutemme, armatura eccellente, punti armatura 60 e un po' la pecca. Materiali combinati, eccellente, classe armatura 5 veramente buona, protegge torace e stomaco. La fregatura di questa armatura, oltre al peso, 13 kg, quasi 14 kg d'armatura, che vi rallenteranno un po' nei movimenti, e l'integrità. Si protegge veramente bene, ma si disintegra subito. Però si ripara altrettanto bene, quindi alla fine è anche consigliabile usarla. Armatura AVS, con gibernaggio incluso. Questa è un'armatura veramente buona, che è anche facile, diciamo, gli inizi da trovare a custom sulle guardie del boss di custom, quindi sulle guardie di Resciana. Punti armatura 70, un'integrità molto elevata. Dimensioni del container 23, di cui questa armatura è una di quelle che ha la capienza per portare appresso, ragazzi, tipo due caricatori, di cui uno nell'arma è uno da tenere qui, a tamburo per le armi, che vi ricordo occupano quattro slot. Poi gli possono mettere uno, due, tre, quattro caricatori normali, più uno, due, tre, quattro, cinque granate o oggetti di cura e altro. Ed è un'armatura con gibernaggio incluso, ovviamente. Materiali combinati, eccellente, classe armatura 4 e la pecca. La pecca purtroppo è questa, protegge bene, però per via della classe armatura, ovviamente, gli M61. Il primo M61 o M80 che vi arriva vi farà un male cane, ragazzi, quindi vi costringeranno subito a scappare o a mettervi al riparo. Protegge torace e stomaco. Dopodiché, tra tante altre armature, questo no è un gibernaggio, perdonatemi, c'è la M2, punti armatura 60, diciamo nella media. Dimensioni del container 18, perché è un'armatura con gibernaggio incluso. Classa armatura 4, purtroppo, è materiale titanio. Protegge tranquillamente torace e stomaco. Armatura che, se volete andare low cost, è assolutamente buona, perché è un 2 in 1 anche, ma fate attenzione perché, diciamo che con tipo due proiettili BP andate giù, se vi beccano il torace. Poi ovviamente c'è un'altra tactic che si può tenere in cambio di altre cose. La M1, che io la utilizzo tanto per andare low cost. Punti armatura 65, si rompe molto facilmente. Dimensioni del container 20, quindi potete portare granate, caricatori e altro. Classa armatura 4 e armatura in acciaio. Non è eccellente, però protegge bene una più che buona parte dei casi in gioco. Anche se, vi ricordo che le armature servono più che altro per proteggersi dai bot scav o dai player scav, che partono con munizioni di merda ogni volta, più che dai player, perché dai player poco ma sicuro le troverete sempre con munizioni eccellenti o munizioni ultra perforanti. Quindi sono più da utilizzare per proteggervi dagli scav, le armature vi ricordo. Protegge tranquillamente torace e stomaco. Dopodiché, MA18 Scandra Plated Carrier. Armatura con gibernaggio incluso, classe armatura 4, materiali combinati, 80 di integrità. Protegge molto bene, si ripara molto bene e dura tanto, classe armatura 4. Questa armatura vi protegge molto bene, la fregatura è che vi protegge solamente il torace, quindi se vi sparano lo stomaco ve lo faranno nero subito. Quindi protegge solo il petto, diciamo, ragazzi. È un'ottima armatura. La fregatura è che richiede 6 whisky per ottenerla in cambio da Ragman e il whisky vale tanto, quindi non vale tanto il valore di 6 whisky al confronto se venduti al flea market. Giubbotto corazzato, Vortec TV 110. Punti armatura 85, quindi integrità più che ottima. Materiali armature in acciaio, nella media. Protegge solo il torace, classe armatura 4. È, diciamo, l'equivalente un po' più economica della A18 Scandra, quindi una variante solo un po' più economica. Ovviamente poi a livello 4 ci venderebbe di meglio, ma andiamo a vedere noi direttamente nel flea market le varie armature che a noi possono essere utili in gioco. Allora, questa l'abbiamo già vista, questa pure. Zabralo. Armatura Zabralo. Come vedete dal flea market la vendono veramente a tanto, sempre integrità massima perché trovarla a meno del 50% servirebbe per un'armatura e ve la vendono anche a un milione per completare l'armatura. C'è la scambia mechanic per una ESA che più o meno non vale la spesa perché la ESA vale qualche miliardo, però è un'armatura che al confronto, se avete già di vostro modo di avere tanti soldi, potete anche scambiarlo se lo trovate perché è un'armatura molto buona. Peso 20 kg, quindi più di metà del peso trasportabile iniziale, ragazzi, se lo ruba solo l'armatura. Aria armatura, braccio sinistro, braccio destro, torace e stomaco. Protegge praticamente tutto il corpo, a parte le gambe che non possono essere protette mai in nessun caso. Punti armatura 85, si ripara anche molto bene. Classe armatura 6, il massimo classe armatura, quindi eccellente. Materiali combinati. Questa, ragazzi, è il top del top della protezione, però ovviamente se morite lo perdete per via di un bot scav o di un player scav, bestemmerete come non mai per via del costo, che non è propriamente economico, 850.000 rubli un'armatura del genere. La Giselle già l'avevamo vista, la Kirasapura. Corund M. Questa è un'armatura nuova che hanno messo, ragazzi, la si può comprare da Prapora a livello 3. Armatura, punti armatura 45, leggermente poco dopo la media, quindi un po' più, diciamo, sullo scadente a livello di integrità massima. Classe armatura 5, quindi molto buona, armatura in acciaio. Due proiettili BP al torace vi uccideranno come nulla, perché la fregatura in questa armatura, ragazzi, come io vi dicevo, da tenere sempre punti armatura, classe armatura e materiale sott'occhio, è i punti armatura e il materiale. Protegge tranquillamente torace e stomaco. È buona se volete andare low cost. Armatura Fort Defender 2. È veramente eccezionale. Punti massimi 70, in questo caso qui uno la vende disintegrata. Classe armatura 5, materiale armatura in acciaio. Protegge bene, dura tanto, ma non tanto dai proiettili perforanti. Protegge ovviamente torace e stomaco. Fort Redut M. L'abbiamo già vista. Fort Redut T5. La versione avanzata della Redut M. Punti integrità. Classe armatura 5, quindi poco meno dell'eccellenza. Materiali combinati. Armatura che protegge molto bene, si ripara molto bene e dura tanto. Ovviamente è una di quelle armature che se morite perdete e ovviamente bestemmiate tanto. Protegge anche questa braccio sinistro e destro oltre al torace e lo stomaco. Armatura Igcom Trooper. La Trooper, ragazzi, è l'armatura di livello 4 migliore del gioco. A mio parere, per come mi ci sono trovato io quando l'ho usata. Si può trovare molto facilmente Fauna in Raid su i Rider presenti nella mappa di Reserve. Difficile da ottenere perché vi ricordo che i Rider, come i boss scav, sono come dei cittoni, quindi dei player che cittano con line bot però senza mani, quindi non tanto bravi a sparare ma vi uccidono all'istante perché comunque vi beccano in faccia o al torace alla velocità della luce con proiettili scadenti ma vi uccideranno subito perché è la difficoltà del gioco che è proprio così quando li incontrate. Punti armatura massimi 85, quindi molto buono. Protegge solo il torace, classe armatura 4, politilene ultra pesante. È un'armatura veramente eccellente, protegge molto bene, però ovviamente vi troverete che se ve la trovate sfondata evitate di mettervela perché vi ricordo che un'armatura troppo sfondata non protegge per niente. Gen 4, già l'abbiamo vista. Poi c'è la Gen 4 kit assalto che protegge anche le braccia, sempre in titanio, poco di diverso dall'altra, protegge semplicemente in più le braccia. È la Gen 4 protezione completa, 95 di integrità massima, in titanio, livello 5, protegge sia le braccia che il torace ma soprattutto lo stomaco che rispetto alla Gen 4 kit d'assalto non fa. Armatura molto buona. UF Untar l'abbiamo già vista, questa pure, la paga pure. Arriviamo all'armatura per inviato giornalistico Zook 3. Facile da trovare sugli scav, protegge bene dai colpi del pompa, ma perché è pulitileno ultra pesante, però state attenti se vi sparano già con un HP con i BT vi faranno veramente, veramente male. Protegge tranquillamente torace e stomaco. Non è eccellente ma in molti casi se volete andare proprio low cost o non avete di meglio da usare, io ve la consiglio. gilet tattico Sleek con porta placche LBT. Come potete vedere vale quasi un milione, 80 di integrità, classe armatura 6, armatura in acciaio. Protegge come non mai, per quanto la sua pecca è solamente il materiale. Protegge solo il torace, però è una delle armature leggeri di livello 6 migliori in assoluto. Se la trovate ragazzi vi consiglio più che di utilizzarla, di uscire fuori dal raid e andarla a vendere al flea market perché ci farete tipo un milione. Questa armatura già l'abbiamo vista. Giubbotto pesante Zook 6A, la versione avanzata della Zook 3. Integrità massima 75. Materiale ceramica, classe armatura 6. La migliore armatura di livello 6 in ceramica, per quanto riguarda quelle in ceramica. Si disintegra subito, protegge bene, si ripara male. Protegge ovviamente torace e stomaco. Ovviamente occhio quando la usate e se la trovate. Praticamente impossibile, credo, da trovare nelle botole. Io non l'ho mai trovata nelle botole. Una volta ho trovato la Slick, quella che vale quasi un milione, ma questa qui mai trovata è assolutamente mai utilizzata. Però nemici che ho ucciso, che ce l'avevano, sono resistiti molto bene nei colpi, però al primo proiettile perforante hanno, come gli è arrivato, sono scappati subito perché l'armatura, per quanto c'ha un massimo di 75 di integrità, essendo in ceramica si disintegra subito. Quindi non proprio tanto buono. Con questo ragazzi terminiamo il tutorial sulle armature. Io ora poi farò un altro tutorial sui caschi, che vi ricordo non servono a tanto, ma in alcuni casi possono salvarvi. Però vi ricordo che le armature ragazzi servono sempre e comunque per proteggervi per lo più dagli scav che dai player, perché i player avranno sempre armature allucinanti, si proteggeranno bene da voi, ma avranno proiettili perforanti molto buoni che vi uccideranno in pochi colpi. Quindi diciamo che uno scontro a fuoco con un altro player, quindi un fight su Tarkov, è sempre basato su chi riesce a mettere più colpi a segno nel più breve tempo possibile senza farsi colpire. Di norma funziona così come funzionerebbe nella realtà. Detto questo, spero che questo piccolo tutorial ragazzi sulle armature vi sia utile, qualora voi le vogliate utilizzare. Detto questo, da Walfair Games e tutti, io vi auguro un buon Natale e una buona sera di Natale insieme alla vostra famiglia e vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao ciao!